Ciao Milan, Gianluca Tanellin, l'Arena, benvenuto. Beh, è stato un blitz quello del direttore sportivo Marrocco, cioè praticamente è finito il campionato, ti ha preso subito. Sì, il direttore ci siamo sentiti subito, io con la Salernitana il mio contratto era finito e quando lui ha saputo, la società ha saputo, il Verona, che non avrei continuato a Salerno, si è subito messo in moto e abbiamo risolto la questione contrattuale molto velocemente. Avete avuto modo, tu e il mister Cioffi, di parlare di quella partita che sembrava clamorosa, poi la Salernitana ha rischiato tantissimo. Sì, abbiamo detto due battute così simpatiche su quella partita. E niente, ci è andata bene, oggettivamente in quella parte da lì siamo stati fortunati, però ecco giustamente l'Udinese ha fatto la sua partita, noi eravamo in difficoltà, più che altro psicologica, quindi ecco, alla fine, come ti ho detto, l'importante era raggiungere l'obiettivo e l'abbiamo raggiunto. Senti Milan, che cosa ti aspetti da questa tua avventura in Giallo Brù? Tra l'altro hai firmato un contratto di tre anni. No, sicuramente mi aspetto di, anzi sono sicuro di approdare in una società molto ben organizzata, formata da tanti professionisti, sia in campo ma soprattutto anche al di fuori. L'impressione è stata subito positiva con i miei compagni, ma anche con tutte le persone che lavorano attorno alla squadra, quindi ecco, mi aspetto di entrare a far parte di questo gruppo e di dare un contributo, una mano, affinché le cose o vadano nel verso positivo come sono andati in queste ultime stagioni. Sei più alto tu o più alto Cioffi? Non mi sono misurato, però più o meno siamo sulla stessa altezza. Comunque scambi alla grande, al di là di questi centimetri, probabilmente avrai iniziato giocando a Palacanestro, non lo so. No, io ho sempre giocato a calcio, mio padre ci ha indirizzato a me, mio fratello, verso il calcio, a noi è piaciuto, quindi ecco, siamo partiti subito da col calcio. Però è riduttivo definirti centravanti Boa, perché ti ho visto anche negli scambi, considerando che sono anche i primi giorni di lavoro, quindi probabilmente anche con le gambe imballate, hai una grande proprietà di palleggio e sei molto abile nel smistare il pallone. Ma sì, diciamo che l'esperienza aiuta. Ecco, sicuramente all'inizio carriera la mia amore, la mia fisicità, da un punto di vista ti può aiutare, da un punto di vista ti può penalizzare. Ho fatto molta più fatica nei primi anni, dopo comunque con l'esperienza, giocando tante partite, uno prende un po' di consapevolezza, migliora, perché comunque si può sempre migliorare a qualsiasi età. Io gli allenamenti li vedo sempre come una sfida quotidiana e quindi ecco, sono migliorato da quel punto di vista e cercherò di migliorare nei giorni, negli allenamenti successivi. Per me l'ultima, ti ringrazio anche. Qual è il compagno di squadra che non conoscevi, che ti ha impressionato più di altri in questi primi giorni di allenamento? Grazie. Beh, più o meno ho giocato contro tutti questi ragazzi. Sicuramente Miguel, veloso dal punto di vista sia umano ma anche tecnico, ha delle grandi doti, balistiche, col piede, è un piede fantastico e penso che possa essere un aiuto sia soprattutto in campo ma anche fuori, infatti abbiamo installato un bel rapporto e mi sta aiutando per quanto riguarda i discorsi extra campo. Ciao Milan, Alberto Fabri e Las Live, benvenuto anche da parte mia a Verona. Ti chiedo subito, perché hai scelto l'Ellas visto che comunque non è stata l'unica società, sapendo appunto della tua scadenza del contratto, che ha chiesto informazioni su di te? Ho scelto l'Ellas molto semplicemente perché il direttore mi ha chiamato ma mi ha spiegato il suo progetto, è stato molto, la voglia che aveva di portarmi con Verona era tanta e un giocatore penso che quando sente la fiducia della società sia già a buon punto, quindi io senza pensarci troppo è stata una cosa veramente molto veloce, ho accettato senza nessun tipo di problema, anzi per me era il momento di una nuova sfida e quindi ecco sono stato subito contentissimo e abbiamo chiuso velocemente. Guardando il tuo curriculum, tu soprattutto in cadetteria hai numeri davvero molto molto importanti, leggo per non sbagliarmi se sono presenze invece sette reti sono in serie A, l'anno scorso ne hai fatti cinque in 33 presenze, con tanto anche poi di fasci capitano, insomma avevi un ruolo davvero molto molto basilari, io ti chiedo invece, visto che noi l'anno scorso abbiamo tra virgolette perso anche il treno dell'Europa per colpa della tua Solernitana, perché tra andate e ritorno mi avevamo regalato tra virgolette sempre ben quattro punti, uno dei tuoi cinque gol l'hai fatto proprio al Bente Godi, ti chiedo ora che sei dentro all'Ellas, com'era l'Ellas invece da esterno? L'Ellas vista dall'esterno, dal mio punto di vista era una squadra molto difficile da affrontare, molto compatta, formata da giocatori che in campo vedevi che c'era questa coesione del gruppo, quindi questo è il primo impatto che ho avuto dell'Ellas, poi aveva giocatori, ha giocatori comunque che ti possono risolvere la partita con una giocata, con un assist decisivo, con una conclusione della distanza, quindi diciamo che aveva diversi fattori che potevano mettere in difficoltà le squadre avversarie, però sicuramente la coesione del gruppo all'interno del terreno di gioco era la cosa che mi aveva più impressionato. Tu vieni da uno stadio molto caldo che noi per l'Altra Verona conosciamo da tempi non sospetti, parliamo dello spareggio che finalmente ci levò dall'inferno della ex SRC attuale Lega Pro, ti chiedo invece il Bente Godi, insomma che impatto è per tu che adesso sei diventato un giocatore del Verona ad avversario entrare dentro questo grande stadio? No, sicuramente un impatto importante, il tifosier del Verona non penso che c'è bisogno chi la descriva, comunque è una tifoseria molto conosciuta in Italia, molto calda, che segue la squadra, gli dà una mano in tutti i momenti della stagione, sia nelle difficoltà che nelle cose positive. A me è sempre impressionato, sempre con cori, si fa sempre sentire, pur essendo comunque tifosi lontano, diciamo tra virgolette dal campo, sono sempre molto calorosi e sicuramente l'avversario ti colpisce questa cosa. Ultima per me, in due parole ti descrivi, perché adesso dobbiamo capire anche che modo lo vorrà fare Mr. Cioffi, noi siamo abituati negli ultimi tre anni a giocare con due terquartisti e una punta di riferimento, dove prediligi giocare, quali sono appunto le tue caratteristiche? Grazie. Io mi considero una punta centrale, una punta molto fisica, che lavora per la squadra, lavora per i compagni di reparto, ma non disdegno anche comunque di dare una mano ai centrocampisti, penso di poter dare una mano sulle palle inattive, sia a favore che a sfavore, e di cercare di essere un punto di riferimento quando la squadra magari è in difficoltà, con magari qualche lancio, oppure quando subisce la pressione avversaria. Diciamo che a grandi linee questo mi definisco un giocatore del genere. Ciao Milan, sono un giocatore di tutto campo, mi è venuto da parte mia, e volevo chiederti, hai già un obiettivo personale per questa stagione a questo punto? Io ho come obiettivo personale quello di inserirmi il più velocemente possibile all'interno della squadra, e assimilare tutti i concetti che il nuovo mister ci darà, e poi sicuramente dare un contributo dal punto di vista sia delle prestazioni, dei gol, affinché si migliori la stagione precedente. Poi ti voglio chiedere, Verona cosa rappresenta per te, e se pensi che possa essere uno step in avanti per la tua carriera? Verona per me rappresenta una grande opportunità, come ho detto prima arrivo in una società molto ben organizzata, con un bellissimo centro sportivo, dei bellissimi tifosi, quindi penso che sia uno step successivo importante, e come ho detto cercherò di rendere al massimo per quanto il mister me lo concederà, e diciamo questo, ecco. Grazie. Buongiorno a Milano, due domande da parte di Gianluca Vighini di Telenuovo, ti chiede l'esperienza con la Salernitana dell'anno scorso, cosa ti ha insegnato visto che arrivi in una squadra che ha come obiettivo la salvezza? L'esperienza dell'anno scorso con la Salernitana mi ha insegnato a non mollare mai, nel senso ci davano tutti un po' perspacciati fino praticamente a dieci partite dalla fine, invece noi avevamo un ottimo gruppo coeso, grazie all'aiuto anche dell'allenatore siamo riusciti a portare a casa questa salvezza di cui non credeva nessuno, quindi ecco l'obiettivo è quello di crederci sempre, non mollare mai, e penso che valga non solo per l'anno scorso ma valga anche in tutte le squadre dove uno milita. Parlando del reparto d'attacco che ha abbondanza di attaccanti in questo momento, che spazio pensi di ritagliarti a Verona in questo senso? Lo spazio uno se lo ritaglia durante gli allenamenti e il mister fa le sue scelte, io ho delle caratteristiche precise e se il mister riterrà opportuno che io parta dall'inizio o subentri, per me non c'è nessun problema, l'importante per me, ma non solo a Verona, ma nell'arco di tutta la mia carriera è di riuscire a dare un contributo alla squadra, perché dopo quando si raggiungono degli obiettivi di squadra, poi viene anche sottolineato il lavoro del singolo. Davide Cailotto di Telerena chiede invece se preferisci l'assist o il gol? Sicuramente il gol è una bellissima soddisfazione, però non disdegno anche l'assist perché comunque, ti ripeto, quando si raggiunge un obiettivo, un gol, quello che sia, c'è bisogno di più fattori, di più giocatori. Quindi l'importante è dare una mano e risultare decisivo per la partita. Davide Cailotto, l'aver firmato un trenale a 32 anni compiuti significa che l'obiettivo è chiudere la carriera a Verona oppure l'idea di giocare ancora? Questo lo vedremo, sicuramente il Verona ha creduto in me e questo penso che sia la cosa più importante. Io cercherò di ripagare questa fiducia sin da subito, nei primi momenti, nelle prime partite, e poi dopo valuteremo, vedremo, non lo so, ecco, bisogna vedere, ci sono tanti fattori che condizionano questa cosa, però sicuramente in questo momento mi sento molto bene, è normale, adesso stiamo faticando tanto il ritiro, dobbiamo mettere, macinare chilometri, però ecco, io finché mi sentirò bene, finché avrò energia, comunque continuerò fin quando, ecco, ci riuscirò. Da parte di Matteo Fontana, Corriere di Verona, quanto ti rivedi nell'espressione che ti descrive come un grande lottatore? Ah, sì, questa è una delle mie caratteristiche, come ho detto prima, quando c'è bisogno di dare una mano, eccetera, sicuramente non mi tiro indietro, penso che anche questo faccia parte del calcio, nel calcio ci sono tantissime sfaccettature, però per gente come me, comunque a 32 anni, penso che uno debba essere anche un esempio per gli altri compagni, quindi ecco, se tu vedi giocatori comunque più grandi che lottano, non mollano mai, danno una mano alla squadra, di conseguenza anche i più giovani che sono all'interno della squadra, nella partita, prenderanno esempio da te, quindi ecco, è un po' come una linea guida, dove tu devi essere il primo che dà l'esempio. A questa domanda hai in parte già risposto, hai fatto tante esperienze in carriera, ma in cosa puoi crescere ancora con il Verona? Ma sicuramente posso crescere da tutti i punti di vista, non mi limito a niente, come ho detto prima, il lavoro quotidiano, io ho sempre creduto nel lavoro quotidiano e negli allenamenti, quindi ecco, penso che non si smetta mai di imparare, quindi sono aperto a tutto, da qualsiasi punto di vista, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista fisico, dal punto di vista umano, perché no? Perché comunque uno, ti ripeto, può sempre crescere. E quindi Tommaso Badia di Calcio Hellas, solitamente i giocatori di una certa stazza ci impiegano più tempo a trovare la forma dopo l'estate, tu come ti senti in questo momento? Ma sicuramente adesso le gambe risultano pesanti, ma penso non solo a me, a tutti, e adesso questo è il momento di faticare, di soffrire, di stringere i denti, e poi godremo dei frutti di questo lavoro a inizio stagione e durante la stagione. Sicuramente la mia stazza, probabilmente, ma non è detto, mi penalizzerà un pochino all'inizio, però ecco, non sono uno che molla facilmente, se ci sarà da faticare, faticherò. Grazie. Grazie a voi.